Giallini, ci siamo eh? Arriva, il tuo amico. Vediamo un po'. Conduzione televisiva 2014, Pegaso d'oro a... Ed è lui, Flavio Insinna, accolto dal suo pubblico, che lo riconosce e lo investe del titolo di miglior conduttore. Flavio, questo è per te. Grazie, buonasera. Anzitutto grazie a voi, alla giuria, al pubblico. Io l'ho già vinto nel 2005, nel 2005-2006, per un telefilm, pensavo lo rivoleste. Non ti abbiamo chiamato per questo. No. La cosa con Marco, volevo dire la cosa bella, non è così, tanto perché ci si vede i propri, allora si fa finta di essere amici. La cosa bella di ritrovarsi in un premio così importante è che con Marco abbiamo iniziato, anche se con strade un po' diverse, tanti anni fa, nei teatri. E allora, poi insomma, vuol dire che il sacrificio paga, anche fatto col divertimento. Poi lui è un uomo a cui senza entrare nel premio, non puoi non volere bene. E quindi stasera siamo felici insieme. Cinque minuti di un saluto, ho detto datemi due sedie e parliamo della vita di Giallini, che è così piena. Flavio, un riconoscimento così, anche alla televisione, a questa televisione bistrattata, di cui non ha voluto... Vogliamo richiedere al maestro Gregorietti come sta? No, appunto, non lo vorrei chiedere a lui come sta, vorrei chiederla a te come sta, come si chiede a un amico come stai. La televisione è solo... No, vabbè, io sono... No, insomma, io cerco di farla da artigiano, insomma, quindi non è che posso, l'oste non può dire come il vino, cerchiamo di farla bene. Io se vuoi ti posso dire le domande che accompagnano anche nel tragetto dall'albergo a qui, ma insomma, dovunque tu vada, se conduci a fare i tuoi, le tre domande. Vai. La prima, dottor, il gioco è truccato, vero? No, no, non è truccato, giuro. È concepito, pensato da persone per bene, anche chi lo conduce, lo so che stenterete a crederlo. Siamo passabilmente per bene. La seconda è... Non vincono gli amici di Insinna. Sì, la seconda domanda è, dottor, i sordi gli hai date veramente? Sono tassati, sono gettoni d'oro che vanno poi ritramutati in stanchi euro, magari dopo un anno, ma arrivano, che siano 100.000, 500.000, un euro, arrivano. La terza è, anche qua fuori dall'albergo, c'è a Flavie, mi cognata ha fatto la domanda quattro volte. Fate giocana, chiamate mai. Sottotesto, giocano solo gli amici vostri. Allora... La risposta? No, 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 ma io lo dico per un'altra cosa, per un attimo non sono, insomma, a livello del maestro dei capitani, insomma, degli altri intellettuali che sono saliti sul palco, però una cosa seria la dico. Queste domande sono frutto, purtroppo, sono colpa di chi ha umiliato, offeso e tradisce tutti i giorni questo paese. E allora, gli italiani pensano che sia impossibile che in televisione, addirittura in televisione, in Italia dice facciamo una cosa onesta. Sì, la sorpresa è questa. E l'occasione meravigliosa è prendere un premio così, concepito, pensato, tenuto in vita da persone oneste. Secondo me dobbiamo riscoprire, ritrovare la voglia di pensare, poi di fare le cose onestamente, e credere che in Italia si possono fare le cose onestamente. Grazie davvero, con tutto il cuore. Grazie. Grazie. Grazie a Flavio Insinna.